Puntare alla ripartenza del Paese attraverso progetti concreti e la ricerca dell'equità sociale. È la ricetta che arriva dai manager italiani che ne hanno discusso nel corso del webinar la sostenibilità economica e sociale, organizzata da Prioritalia e Manageritalia. Secondo noi la ripresa dopo un'emergenza sanitaria di proporzioni così drammatiche richiede una gestione organica e responsabile, che significa lavorare in modo concreto sui progetti per far accadere le cose in tempi certi e con costi sostenibili. Abbiamo un assoluto bisogno quindi di organizzazione e di cultura manageriale fatta di visione strategica, di approccio integrato, di capacità esecutiva e di lavoro di squadra. Abbiamo davanti un'occasione, straordinaria, di un nuovo inizio, di fare meglio di prima, senza per esempio arritrare rispetto all'emergenza climatica, ma accelerando la transizione digitale, ecologica, energetica. Insomma, non tornare al 2019 per riprendere a produrre, consumare, lavorare come abbiamo sempre fatto, ma correre dritti e veloci verso il 2030. È il momento che istituzioni, parti sociali e aziende facciano veramente la loro parte e si rivelino all'altezza della situazione. Altrimenti corriamo un serio rischio di dissoluzione del tessuto sociale, quindi di esplosione di una collera sociale. Ma un nuovo sviluppo deve passare dalla condivisione di saperi e conoscenze. Le parole sono quattro. Accedere ai saperi, trasferire poteri. Accedere ai saperi perché nei momenti di difficoltà è sempre con la conoscenza che compie il salto. Una conoscenza che è dei grandi centri di competenza, le università di questo paese, potenti anche se malfinanziate. Le imprese pubbliche, questo backbone, questa spina dorsale del sistema del paese, il 30% della borsa, solo loro assolutamente no, perché dall'altra parte dei saperi ci sono i saperi territoriali, quelli incorporati, embedded all'interno delle microimprese, dei lavoratori, degli insegnanti, delle scuole, delle persone che vanno presidiato la salute, dei loro pazienti. E per far ripartire il paese non può mancare la crescita dell'occupazione femminile, che deve essere sostenuta anche con azioni specifiche di welfare. Siamo un paese che sostanzialmente su questo fronte non ha mai investito, non ha mai investito in politiche di condivisione, non ha mai investito per superare questa disuguaglianza di genere che ci mette in fondo alla graduatoria dei paesi europei, nella partecipazione al mercato del lavoro, nella penalizzazione per le donne che lavorano e hanno figli e sono costrette ad abbandonarlo, nella penalizzazione nel momento in cui si costruiscono dei percorsi di carriera e una valutazione seria ci dice che mai nel nostro paese si è investito seriamente per sciogliere questo nodo. In altri paesi, in fasi diverse della loro storia, questo nodo è stato affrontato nei paesi nordici, è avvenuto molto presto, nel momento in cui le donne cominciavano a entrare nel mercato del lavoro, si sono subito affiancate politiche di potenziamento dei servizi, politiche di condivisione all'interno della coppia e così via. Questo avveniva dagli anni 50-60, nel nostro paese non è mai avvenuto. Grazie. Grazie.